Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca l'omicidio dei fratelli Talaric uccisi a colpi di pistola a terra nuova Bracciolini. Adesso a distanza di 18 anni la confessione di un pentito. Era l'aprile del 2006 quando vennero ritrovati i corpi dei fratelli Talarico, operai edili originari della campagna ma residenti in Valdarno, freddati con un colpo di pistola alla testa e poi sepolti in un campo in località Tasso a terra nuova Bracciolini. Adesso a 18 anni di distanza un pentito dal carcere ha confessato il duplice delitto facendo anche altri nomi. Domenico Colosimo conferma di essere stato lui uno degli esecutori dell'omicidio, dice che non l'ha fatto da solo, che l'ha fatto insieme a Giovanni Greco e Mario Gigliotti. La rivelazione adesso è nelle mani della Didi Adicca Tanzaro in attesa di essere trasferita ai colleghi di Firenze. La famiglia Talarico aveva sempre avuto il sospetto che Colosimo c'entrasse qualcosa, loro non pensavano che fosse l'esecutore, però tutto quello che lui dice poi dovrà essere vagliato quindi ci sarà un procedimento penale. Colosimo nella sua confessione ha raccontato che due fratelli furono attirati con la scusa di mettere a segno un furto assieme, una trappola. Io su certe cose francamente ho dei dubbi perché Rosa Talarico che è la figlia racconta che il padre gli aveva detto guarda che Colosimo è sfuggito a un agguato mortale, è sfuggito per pura fortuna, quindi io voglio stargli lontano perché questo è un bersaglio vivente. Il movente una faida tra clan. Molto probabilmente nell'ambito di questa pace tra l'endride era stata fatta una scelta a monte, quindi quando si fa la pace poi si regolano i conti a livello basso. Nella confezione di Colosimo infine anche le scuse ai familiari. Voglio chiedere perdono alle famiglie delle persone che ho ucciso perché mi sento pentito di quello che ho fatto e voglio chiedere scusa. Io pagherò per quello che ho fatto ma voglio dire che sono pentito anche al di là della decisione di collaborare con la giustizia. L'arrivo dell'estate conclude diversi corsi formativi dell'arma dei carabinieri e i militari di diverso ordine e grado raggiungono via via i reparti. Con 311 carabinieri in Toscana è stato potenziato il dispositivo organico delle tenenze e stazioni dell'arma distribuite nel territorio delle 10 province. Nell'Arettino il comando legione toscana ha segnato 25 nuovi carabinieri che saranno distribuiti tra i vari comandi delle 5 compagnie territoriali. Nella notte invece ad Arezzo si è consumato un incidente stradale. È stata attivata l'emergenza urgenza per prestare soccorso ad una persona rimasta ferita per fortuna in maniera non grave. È successo attorno alle 23 in via della Chimera uno scontro tra auto, un impatto fronte laterale avvenuto nei pressi dell'incrocio. Il paziente è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. E dopo quello inannottata un altro incidente si è verificato in mattinata ad Arezzo in zona Santa Firmina. Poco dopo le 10 anche in questo caso sono intervenuti i soccorritori Arettini dell'emergenza urgenza e in particolare della Croce Bianca. I rilevi di legge sono stati invece effettuati dalla Polizia Municipale di Arezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Una delle due auto coinvolte infatti ha anche abbattuto un lampione. E sempre i vigili del fuoco, ma in questo caso in Piazza Saione, hanno salvato un gattino che per tre giorni è rimasto intrappolato in uno stabile. Il piccolo gattino nero con il suo emiagolire è riuscito ad attirare l'attenzione di una signora che abita nelle vicinanze. Il micio è stato così salvato dai pompieri ed è stato poi adottato proprio da uno dei vigili del fuoco che l'ha soccorso. Da Via Concino Concini invece arriva un appello di una cittadina per salvare la colonia felina. Sono iniziati i lavori, io l'avevo già avvisato a chiunque il seme di dovere, di cavare questi gatti, visto che è stata censita dal comune e non l'hanno fatto. E quindi ora sono iniziati i lavori veri e propri e i gatti verranno smantellati, non hanno più un riparo, non hanno più niente. Io sto chiamando chiunque per farmi aiutare a trovare una sistemazione per questi gatti. Ci troviamo in Via Concino Concini ad Arezzo, nella zona dell'ex mercato Orto Frutticolo. Proprio all'interno di questi stabili, ormai da tempo abbandonati, hanno infatti trovato rifugio una quindicina di mici, anche gatte e con cuccioli. Nella zona sono iniziati adesso i tanto attesi lavori di demolizione che però potrebbero mettere a rischio questi animali. Da qui l'appello è lanciato da una cittadina che da tempo si prende cura della colonia censita. L'appello ovviamente alle associazioni animaliste. Sì, sono disposta anche a prendere alcuni ma poi il resto non lo so. Hanno bisogno adesso di un riparo? Eh sì, che non hanno, non sanno dove andare proprio praticamente, non hanno più niente. Cioè quel poco che avevano, quello lo buttano giù, quindi a rischio di essere sotto le macelli. Ci sono parecchi, mamme con cuccioli e quindi non so la fine che potranno fare. Una colonia censita, quindi l'appello insomma è anche all'amministrazione comunale. Sì, sì. Cosa chiede all'amministrazione comunale? Di trovare una soluzione, un posto idoneo per loro e c'è insicurezza possibile. Niente, perché non è possibile metterli qui in strada. Se hanno un posto, io posso tranquillamente aiutarli senza trovare, c'è a contribuire e tutto il resto. Solamente qualche giorno fa a Cortone è stata presentata la nuova giunta comunale, tra i confermati anche l'assessore Francesco Attesti che è già al lavoro. Torna ad occupare la casella dedicata a cultura e turismo Francesco Attesti, l'assessore già al lavoro per nuove iniziative per la città di Cortona. Sicuramente il potenziamento di tutte le iniziative che stiamo svolgendo durante l'anno, un implemento ulteriore di alcuni festival, ma soprattutto ci sono anche delle nuove idee di cui ne parlerò chiaramente con il sindaco e con la giunta, proprio per rendere anche il territorio molto più coinvolto e soprattutto cercare anche di far conoscere dei posti non noti al grande pubblico. Tra i prossimi impegni in calendario c'è la Cortona Antiquaria che si aprirà il 23 agosto prossimo. Su Cortona Antiquaria stiamo cercando una collaterale molto importante di un artista importantissimo contemporaneo, stiamo avendo le prime conferme e quindi ci saranno dei pezzi di notevole rilievo nel panorama artistico nazionale e internazionale. Poi chiaramente vogliamo continuare con gli eventi in piazza Signorelli e stiamo anche già decidendo per il premio Cortona Antiquaria che sarà appunto uno straniero residente a Cortona. Una delle sfide culturali che attendono la città etrusca sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sì, anche questo è un appuntamento su cui stiamo puntando e ci stiamo lentamente preparando alla data principale del 2026, appunto per i 800 anni, ma già adesso siamo in primis interessati a questo evento proprio perché abbiamo tre le liquie, nella chiesa di San Francesco, abbiamo dei luoghi francescani di tutto rispetto e contiamo veramente di smuovere un turismo importante nei prossimi anni. Quindi ci stiamo attrenzando, Cortona città di Francesco è un progetto che vede coinvolte tante associazioni, tante realtà civili e religiose e speriamo davvero che possa essere un grande ritorno di immagini e di turismo per la città. Voltiamo pagina, l'azienda Asla Toscana Sud-Est ha vinto il premio protagonista in Sanità 2024 dedicato alla certificazione di genere. La cerimonia si è svolta ieri a Roma. Un riconoscimento ottenuto grazie al percorso appunto sulla certificazione di genere che l'Asla ha intrapreso da tempo per implementare le politiche volte alla parità e alla valorizzazione di tutte le risorse umane che vi operano all'interno. Ed ancora salute in Valdarno, a San Giovanni Valdarno è terminata la prima edizione dello psicologo on the road. 200 incontri in tre mesi, un bilancio quindi positivo. Il progetto voluto dall'amministrazione comunale e realizzato dallo studio psiche con l'utilizzo di un camper o studio mobile collocato in Piazza della Libertà e in Piazza Casprini ha dato l'opportunità di fornire sostegno psicologico a cittadini di tutte le età, proponendo un modello di prevenzione primaria fondamentale per il benessere psicofisico. E adesso parliamo invece di truffe agli anziani, infatti, uscito il terzo spot della campagna di prevenzione Teme Piaci Poco nata dalla collaborazione tra il comune di Arezzo e la Potipictures, protagonista dell'ultimo episodio, il finto omino del gas. Non puoi deludermi, ci penso io. Ma chi è? Signora, sono l'omino del gas, ci ha chiamato per... per una perdita. Oh madonna santa, ma è pericoloso. Certo se non è pericoloso, poi mi faccio salire in casa e ho l'apparicchio apposta. Scusi tanto, ma lei chi l'ha chiamata? Il condominio, perché dicono che c'è una puzza di gas. Dai signora, mi apra, non ho tanto tempo da perdere. Ma lei il tesserino ce l'ha? E certo che ce l'ho, per chi mi ha preso? Mi faccio salire, ne lo mostro. Non c'è bisogno, mi figliolo, mi ha dato un argento, basta che me lo mostri lì. Dai signora, ora perdo la pazienza, mi apra. Te sei furbo, ma che pensi, che sono nata ieri? Te a me, mi piaci poco. Ma guarda questa vecchia. Guarda che ti sento, eh. Io ho capito. O meno del gas. Cerca di dare gas, che ho chiamato la polizia. Guarda questa. Oh, e dunque? Eh, ve lo dico io. Questa ne viene, eh. D'accordo, cara vecchietta. L'hai voluto tu. Nel cuore di Arezzo è pronta a tornare la cena bianca promossa come sempre da ConfCommercio. Per il quinto anno, Piazza Grande indosserà l'abito da sera in occasione della cena bianca, iniziativa promossa da ConfCommercio in collaborazione con i ristoratori della piazza. L'appuntamento è per giovedì 18 luglio. Ritorna quindi anche quest'anno nella stupenda cornice di Piazza Grande, insieme al Prato, quindi il 18 mattina il Prato, diciamo, sarà montato e quindi la piazza godrà per un po', fino alla domenica, di un'aggiunta di verde all'interno della piazza e la sera del 18 ci sarà la cena in bianco. Una cena molto attesa, è un evento molto molto atteso durante l'anno, non solo per gli aretini, ma anche per le altre persone, soprattutto della Toscana, che vengono e che ci hanno già contattato. Il lastricato del loggiato Vasariano e del Palazzo di Fraternita dalle 19 diventerà un suggestivo salotto dove gli ospiti, in rigoroso abito bianco, potranno gustare piatti gourmet legati alla tradizione toscana. Una cena con un menù da sogno, quattro ristoranti insieme per un menù davvero da non perdere, tanta musica, spettacoli, intrattenimento, una serata veramente straordinaria, tutta da vivere. Fino alle 23 sarà infine possibile visitare il Museo di Fraternita e le mostre collaterali. Decima edizione invece per l'Alezzo Celtic Festival. L'evento è in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio al Parco Pertini, permetterà di vivere un salto indietro nei secoli tra accampamenti, musiche, atmosfere e tradizioni dei popoli dell'antichità, andando a proporre un calendario ricco di iniziative per tutte le età. Ed il MUMEC, invece il Museo dei Mezzi di Comunicazione, annuncia la sua nuova iniziativa per l'estate, un progetto realizzato con il contributo dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune all'interno del bando per le attività ricreative 2024 dal titolo Play MUMEC, giocare al museo. L'idea infatti è quella di ricreare un vero e proprio gioco dell'OCA diffuso in tutto il museo con tanto di dadi giganti da tirare e tabellone con caselle speciali. Il primo appuntamento è in programma per giovedì 18 luglio. E restiamo nel cuore della città, una mostra per ricordare attraverso 40 scatti la liberazione della provincia di Arezzo. Questa è la mostra fotografica, sta a dimostrare cosa è successo e che non dovrebbe più succedere. Noi vediamo quanto è difficile la pace, quanto è difficile la pace. Noi ci auguriamo che il messaggio che viene da questa mostra fotografica sia un incentivo verso la pace a 80 anni dalla liberazione della città di Arezzo e provincia. La liberazione della provincia di Arezzo raccontata attraverso 40 scatti in esposizione negli spazi della Galleria Ricasoli. Una mostra per celebrare l'ottantesimo anniversario dalla liberazione organizzato dall'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldi. Garibaldi ha combattuto per la libertà di tutti i popoli e è un esempio di democrazia, è uno dei primi esempi di democrazia, non si è mai arreso e ha combattuto sempre per la libertà e la democrazia. E quindi noi abbiamo il dovere di continuare e tramandare questi principi, questi valori. Quindi ricordare, come in questo caso, grazie al credo e all'impegno dell'Associazione è un modo per renderci conto di quanto sangue e quante morti hanno dovuto sacrificarsi per la libertà che noi oggi abbiamo. Come diceva prima il Presidente, una guerra non si vince mai, si perde sempre. Su Arezzo ci furono più di 3.000 vittime innocenti, quindi nonostante la gioia della ripartenza e della liberazione, il costo dei viti fu alto. Lo scopo di un'amministrazione è quello di coinvolgere i giovani per poter tramandare questi valori e queste anche atrocità che spesso si vedono alla televisione sembrano lontane. In realtà sono molto vicine e sono anche state nei nostri territori, nelle nostre case e hanno coinvolto nonni, parenti. Quindi è opportuno, anche se sono passati 80 anni, riscoprire quei giorni, riscoprire quei valori per insegnare ai nostri ragazzi, coinvolgerli e renderli partecipi. Proprio a Castiglionfibocchi, alla Fontaccia, nel luglio 1944, vennero uccisi 14 civili dai soldati tedeschi, c'è chi in quella strage ha perso un nonno e uno zio. Mia madre all'epoca aveva 12 anni, mio zio e mia zia erano ancora più piccoli, pertanto i loro sogni sono svaniti, in quanto quello che avevano intenzione di fare poi nella vita è andato tutto a perdere. Questo ricordo è sempre vivo e sempre molto doloroso, in quanto la vita è bella e deve essere vissuta nella giusta maniera. Pertanto mi auguro che questo possa dare anche un segnale a tanti giovani che non si può vivere il presente se non guardiamo un attimo anche a quello che è successo nel passato, anche se è doloroso. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 21 luglio. È stato Rocco Pappaleo a chiudere in fortezza i Barchi Festival. Mio padre cammina in fretta, mia madre è una buona moglie, ma se lei lascia cadere un pensiero, lui sempre lo raccoglie. Musiche parole, divertissement, è una sorta di diario personale che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. La Fortezza Medicea di Arezzo ha così ospitato Rocco Pappaleo che ha chiuso la prima edizione di Barchi Festival, tre giorni di spettacoli, concerti e laboratori sotto la direzione artistica della fila Stoccola. Sul palco, assieme all'artista lucano, il pianista Arturo Valiante. Diciamo che è uno spettacolo di teatro canzone, con tutte le caratteristiche di quella forma e quindi narrazione, musica, canzoni. Rispetto al passato, diciamo, quando normalmente ho sempre fatto questi spettacoli con una band, con quattro, cinque elementi, adesso proprio per valorizzare un po' più il testo, sia dei racconti che delle canzoni, abbiamo deciso di renderlo più minimale, questa è una versione estiva un po' di corsa, diciamo così. Normalmente facciamo questo spettacolo basato, si spera, su un'emozione condivisa con il pubblico, quindi molto a contatto. Rocco Pappaleo si prepara anche a tornare a calcare i palcoscenici dei teatri italiani. L'abbiamo fatto l'anno scorso messo in scena un testo di Gogol, è l'ispettore generale, è stato uno spettacolo molto apprezzato, che come sempre succede negli spettacoli, si fa per due stagioni, i spettacoli soprattutto quelli, diciamo, con gli stabili, è stato prodotto lo stabile di Bolzano, e a gennaio lo riprendiamo e lo portiamo un po' in giro, anche ad Arezzo, tra l'altro. Comincia con la musica classica, l'edizione 2024 di Naturalmente Pianoforte, il Festival Anima del Casentino. Dal 13 luglio il pre-festival sarà dedicato alla terza edizione della Masterclass di Pianoforte, tenuta dal maestro Andrea Turini, che fin dal primo anno ha ottenuto una partecipazione numerosa, tanto che da quest'anno è stato ampliato ulteriormente il numero degli iscritti e dei docenti. E adesso la pagina dello sport, a colpo di mercato per l'Arezzo, che ha definito l'ingaggio di Dario del Fabbro, classe 1995 originario di Alghero, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, con cui ha collezionato sei apparizioni in Serie A ad inizio carriera. Il suo nome era spuntato negli ultimi giorni, e oggi c'è stata l'accelerata decisiva. La scuola Baschiettarezzo invece comunica l'inserimento di Mirko Vagnuzzi nella rota della prima squadra, prodotto del bivaio a retino, nelle ultime stagioni si è messo in evidenza prima nell'Under-17 e poi Under-19, dove è stato uno dei protagonisti dei risultati positivi delle formazioni a Maranto. La Chimera Nuoto invece si piazza alla quinto posto al campionato regionale estivo della categoria Esordienti A. La squadra retina, composta da 12 atleti e atleti nati tra il 2011 e il 2013, che sono scesi in basca a Chianciano Terme per le finali toscane, che a confronto con i coetanei di 42 società sono riusciti a ben figurare con 5 argenti e 2 bronzi. La somma di tutti i risultati ottenuti nelle diverse specialità ha permesso alla Chimera Nuoto di meritare un'ottima quinta posizione nella classifica generale, confermandosi tra le migliori realtà giovanili della regione. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.